Vessi ste masse, pigliamo se Roma, comandiamo sempre, sempre noi E loro devono essere i nostri esecutori, devono lavorare per noi E quindi fatte in giro negli uffici a salutare, a vendere il prodotto, amico mio Bisogna fare come le puttane, metti la minigonna e vai a battere, da sti qua Tutto under control, sai quanto gli do? 5.000 al mese, ogni mese A quello 1.500, a quell'altro 7.50, all'assessore 10.000, ogni mese Ma è pure giusto, se campate è politica, ed ora che ci stanno le elezioni comunali Io pago segretaria, pago cena e manifesti, faccio pubblicità, finanzio eventi e giornali È un investimento, poi per 5 anni, come make-up artist, truccano gli appalti E noi, 40 milioni fatturati, tutti con gli zingari, gli alloggi e gli immigrati Il trucco è da una mano, da una spinta, tena in caldo, piglia, guadagna, presciuga, compra Spero soltanto non ci stiano intercettando, se vediamo al mondo del mezzo, compa La teoria del mondo del mezzo, stanno come si dice i viti sopra, i morti sopra, ci stiamo nel mezzo Allora vuol dire che c'è stato un mondo, un mondo inverso in cui tutti si incontrano Che dice i casi, non è possibile